Ora che conosciamo il concetto di curva, facciamo un passo più avanti, e cioè introduciamo un altro concetto di geometria di estrema importanza. Sto parlando del vettore tangente alla curva. Che cos'è il vettore tangente? Allora, voi vedete, io qui ho riportato il disegno, il grafico, della prima lezione, con la curva immersa in R3 e con, naturalmente, non l'abbiamo trascritto, ma la parametrizzazione che associa ai punti di un intervallo AB, la nostra parametrizzazione alfa, definita da un sottointervallo AB di R, a valori in R3. Qui siamo in R3. Questo è il nostro intervallo AB. Se vogliamo parlare di tempi, possiamo supporre che questo sia l'istante T con A, questo sia l'istante T con B, e alfa fa corrispondere a questi due istanti, questi due punti. Ora, consideriamo un punto T generico, interno all'intervallo T. È evidente che a questo punto T corrisponderà un punto sulla curva, ad esempio, questo punto P, cioè alfa di T è uguale a P, naturalmente. Come abbiamo visto, anticipato nella prima lezione, a questo punto P corrisponde un vettore applicato nell'origine con estremo nel punto P, e cioè il raggio vettore, quello che abbiamo indicato noi con R, R di T, R al tempo T. Ebbene, definiamo ora un incremento delta T, un delta, una variazione dell'intervallo, di modo che io possa definire un punto T più delta T. Naturalmente questo delta T mi provoca uno spostamento a destra, ma potrebbe essere anche uno spostamento a sinistra, dipende dal delta T, se è una quantità positiva, e cioè che si somma T, o se è negativo che si sottrae, e quindi è a sinistra. Ma questo non ci fa perdere di generalità, il discorso è analogo. La cosa che risalta è che a questo punto, naturalmente, corrisponde un altro punto, ad esempio il punto Q sulla curva, e cioè α di T più delta T è uguale a Q. Vedete? Naturalmente, a questo punto, corrisponderà un altro raggio vettore, il vettore posizione che punta sul punto Q. questo qui è R di T più delta T, naturalmente. Vedete? Come abbiamo anticipato, il vettore si sposta se io mi sposto nell'intervallo, e punta sulla curva. Ora, noi qui abbiamo chiamato la mappa, cioè la funzione, che associa a ciascun punto di questa retta un punto della curva, α, e abbiamo chiamato il vettore R. Spesso, con un abuso di linguaggio, con una stessa lettera, noi ci riferiamo sia alla funzione che al vettore. In questo caso le abbiamo distinte. Concentriamo ora l'attenzione sul raggio vettore, cioè su R. Allora, costruiamo il seguente vettore, cioè facciamo R di T più delta T meno R di T. Vedete? Un vettore differenza. Allora, dalla geometria elementare, se io ho due vettori, ad esempio il vettore A e il vettore B, allora, che cos'è B meno A? Allora, si prende questo vettore qui, poi si prende questo, lo si capovolge e lo si riporta in questo modo. Questo qui è meno A. Ora, B meno A è la somma di B più l'opposto di A. e quindi questo vettore qui, che posso riportare, ovviamente, qui. Quindi, osservate, B meno A è un vettore che ha l'estremo libero sul primo vettore che compare nella differenza. e cioè, nella nostra figura, il vettore B meno A è questo vettore qui. Il vettore R di T più delta T meno R di T che possiamo indicare in modo abbreviato come delta R, cioè la variazione, lo spostamento della posizione. questo qui è delta R. Vi ricordo che questi sono vettori. Ora, dividiamo questa differenza per il delta T. Quello che otteniamo è una grandezza che descrive la velocità media da questo punto a questo punto. Questo si chiama rapporto incrementale. Chi ha studiato analisi lo ricorderà il rapporto incrementale come, per l'appunto, il rapporto di due grandezze. La funzione a numeratore fratto la variazione della funzione fratto la variazione della variabile indipendente. In questo caso questo è un rapporto incrementale che coinvolge una funzione vettoriale. Queste in realtà sono tre funzioni che sono le coordinate del punto del raggio vettorio. Ora, qui abbiamo naturalmente delta T. Ora andiamo a calcolare il limite del rapporto incrementale quando l'incremento tende a zero. Che cosa otteniamo? Che cosa succede geometricamente? Quando delta T tende a zero allora succede che questo punto T si avvicina a T. Cioè, il punto T più delta T siccome delta T tende a zero questo punto tende ad avvicinarsi a T. Di conseguenza per la continuità della curva il raggio vettore che punta su Q e quindi il punto Q si sposta sulla curva e tende a P chiaramente come se questo vettore qui svolge questo movimento e tende ad assestarsi sulla posizione di P. Allora, questo ci consente di definire questo delta R al limite quando il raggio vettore è sovrapposto sulla posizione rispetto a P questo delta R diventa praticamente che è il vettore questo qui spostamento diventa il vettore tangente a P che si indica in questo modo dr o anche no, pardon più che dr sì, diciamo dr in dt cioè derivata di r in dt che possiamo indicare anche con una notazione alla Newton come r punto dt mentre questa notazione dr in dt è dovuta a Leibniz la notazione di Leibniz questa qui è la derivata è la derivata del raggio vettore ed è la velocità è la velocità del punto sulla curva descrive la velocità di quel punto istantanea per l'appunto cioè al tempo t quant'è la velocità del punto al tempo t è pari al valore della derivata quando questa derivata esiste naturalmente quando è un valore finito ora chiaramente siccome questa è una funzione vettoriale siccome questa è una funzione vettoriale in realtà r di t noi sappiamo che è un vettore le cui componenti sono tre funzioni di t e sono le componenti del vettore come abbiamo fatto vedere più volte no? in una lezione precedente sono le componenti del vettore ebbene io quando faccio la derivata di r di t io in realtà faccio tre derivate cioè faccio tre limiti per delta t che tende a zero una volta su x poi lo faccio su y e poi lo faccio su z questo vettore qui diventa il vettore velocità queste componenti sono le componenti di questo vettore vedete che in questo caso è applicato qui ma io lo posso prendere lo posso riportare nell'origine e quindi rispetto all'origine poi le componenti del vettore descrivono l'orientazione rispetto all'origine questo è il vettore velocità che descrive per l'appunto la velocità del punto sulla curva naturalmente una curva che ha vettore tangente in ogni punto in ogni punto si dice che è differenziabile o anche regolare però tra regolare e differenziabile ci sono delle differenze delle sottili differenze che non stiamo qui a indagare potete prendere un libro di analisi e andare a vedere i dettagli la cosa intuitiva di una curva regolare è che sostanzialmente è una curva che è liscia che non ha spigoli per così dire perché nella curva regolare noi supponiamo che il vettore sia praticamente ovunque definito il vettore tangente si dice che una curva è regolare quando la derivata è diversa da zero cioè il vettore tangente è diverso da zero nelle sue componenti con questo chiudiamo questo video grazie